Scusi, è permesso? Avanti, mi dica, sono Tiziana E manca che veste Dolce Gabbana Ok, vorrei che mi leggesse il futuro Ma perché ha le cuffiette? Per sentirci meglio Comunque quale domande le faccio io Volei che lega il futuro, giusto? Ok, scusi, sì Ok, cosa vorrebbe sapere? Avrò una gioia prima o poi in futuro? No Ma non ha fatto neanche quella cosa lì con le carte? No Ah Perfetto, sono 300 euro Con tanta carta di credito? 300 euro Non credo di averli adesso Mi scusi? Aspetti Quella centura di Dolce Gabbana? Sì, perché? Va bene quella Ma che che ha